Parare di voto utile è proprio una stupidaggine tecnicamente, in primo luogo perché c'è il 40% di indecisi, in secondo luogo perché siamo tutti là, cioè ci distanziano 5-6 punti, e in terzo luogo, e questo è quello che ho spiegato, perché questa è un'elezione a due turni, e in un'elezione a due turni tu non devi stare attento solo a chi mandi al secondo turno, ma che quello che mandi al secondo turno abbia buone possibilità di vincere. Ora se c'è una cosa che tutti quanti i sondaggi hanno sempre detto è che per ragioni banali, nel senso che essendo più trasversale degli altri ho più possibilità di vincere con chiunque al secondo turno. Quello che io ho semplicemente detto è ragionate bene, primo sul fatto che il voto utile deve essere utile a governare la città e va bene, e secondo sul fatto che deve essere utile per il secondo turno, perché se ci mandi poi qualcuno che viene sconfitto al secondo turno hai fatto veramente la frittata perfetta, ecco questo solo mi sono permesso di dire. E chi viene sconfitto al secondo turno? Qualtieri per esempio? Chi è che viene sconfitto al secondo turno? Qual è il suo ragionamento? Diciamo che tutti quanti sono molto testa a testa, quello che abbiamo visto è che nel caso di Gualtieri e Michetti è proprio un testa a testa, viceversa quello che succede è che se ci vado io lo stacco molto Michetti. Allora, però ripeto, la cosa importante per me è sempre dire che il voto è utile se uno crede in colui e nella squadra e nelle proposte che vota, altrimenti non è un voto utile. Dopodiché quando ci sono i due turni normalmente funziona che tu voti al primo turno la persona che ritieni più adatta a gestire la città, se poi non arriva al secondo turno liberamente scegli il meno peggio, ma a partire col meno peggio è proprio sbagliato. E non solo, ti dico una cosa se posso, il fatto che questo sia l'unico argomento che usano, cioè che non mettono in discussione il fatto che abbiamo lavorato di più, più profondamente eccetera, ma il voto utile dimostra una fragilità dell'offerta politica. Grazie a tutti.